Al via da oggi la stagione dei saldi invernali, la stagione degli sconti che si apre in Basilicata, Sicilia e Valle d'Aosta, mentre per la nostra regione la Campania e in altre regioni d'Italia inizierà sabato 4 gennaio. L'Osservatorio Nazionale FederConsumatori stima che oltre 9 milioni di famiglie, quindi il 38% del totale, effettueranno acquisti approfittando delle promozioni con un andamento delle vendite, in diminuzione però dell'1,3% risposta allo scorso anno, mentre per il Codacons si aspetta un flop totale con un meno 10%. La spesa media ammonterà a 179 euro per ogni famiglia, la flessione da un'analisi del comportamento dei consumatori è imputabile soprattutto agli acquisti effettuati in occasione del Black Friday, che di anno in anno assorbe una fetta sempre maggiore delle vendite, visto che quest'anno sono stati molti ad approfittare degli sconti applicati nell'ultimo venerdì di novembre. Il Black Friday di fine novembre ha portato milioni di italiani ad anticipare gli acquisti che prima erano riservati al periodo dei saldi, spiega il Codacons, e così i saldi invernali si tradurranno in una debacle totale. Ma il 2020 sarà un anno all'insegno della sostenibilità anche per la moda, ha commentato il presidente della Federazione Moda Italia Confocommercio, Renato Borghi, sottolineando come i saldi siano l'occasione per rilanciare gli acquisti nei negozi di prossimità con il vantaggio di fare shopping. Per questo, prosegue Borghi, abbiamo chiesto ed apprezzato l'introduzione della web Digital Tax, l'imposta sui ricavi generati in Italia dalle aziende di internet. Per i colossi del web che vendono in Italia ne auspichiamo una regolamentazione comune da parte dell'Unione Europea. A Salerno i saldi prenderanno il via sabato 4 gennaio e si partirà con sconti dal 20 al 30%, ma in linea di massima, come ormai accade già da diverso tempo, sono già tanti i negozi che hanno attivato promozioni speciali, attivando di fatto dei saldi anticipati per i clienti, probabilmente per tentare di contrastare la concorrenza dei negozi online che anticipano l'abbassamento dei prezzi, bruciando sul tempo i negozi tradizionali. L'aspettativa da parte degli operatori commerciali è comunque alta. Sono in attesa di una boccata di ossigeno significativa. Per i consumatori, in ogni caso, l'appuntamento con i prezzi scontati nei negozi di vestiario e non solo resta ancora tra più attesi per compiere la caccia all'affare.